Magnifico! Posso iniziare a ripagare immediatamente la tua generosità, sputa il rospo. Tutto qui? Stai chiedendo la persona giusta. Si potrebbe benissimo dire che creare subbuglio è una delle mie specialità. Fatti da parte e osserva il maestro. Non molto tempo fa, c'erano diversi kajiti accampati fuori dalle mura di Wightran. Un attimo di attenzione? Posso avere la vostra attenzione? Devo fare un annuncio. Il loro coraggio è... Andiamo. Presto. Prima che qualcuno si accorga di noi. È un ufemismo, ovviamente. Credo sia impossibile che qualcuno possa davvero ritenerla tale o peggio. Voglio avere un qualche tipo di coinvolgimento. Finora tutto bene. Speriamo che nessuno ci abbia visto uscire. Dobbiamo passare attraverso la cucina. Le tue cose sono nascoste nella dispensa. Stammi vicino e lascia che sia io a parlare, capito? Bene, bene, levatemi le mani indosso, mi comporterò a modo. Non vogliamo offendere i nostri signori Talmor, vero? Chi c'è, Marco? Lo sai che non mi piace sentire odori strani in cucina. C'è un ospite che non sta bene, lascialo in pace. Un ospite? Nelle cucine? Sai bene che questo è contrario alle regole. Parli di regole, Zavani? Non sapevo che fosse permesso mangiare l'uso per lunare. Forse dovrei andare a chiederlo all'ambasciatrice. Vattene via, io non ho visto niente. Perché ti comporti così? Le tue cose sono in quel baule. Io chiuderò la porta dietro di te. Cerca di non rovinare tutto. Avanzi. Se qualcuno si accorge che non sono alla festa, siamo morti tutti e due. Il miglior vino ardente. Non vedo l'ora. Non avrei potuto esprimermi meglio. Da tempo che non ricevo notizie dalle altre zone di Skyrim. Tu cos'hai saputo? Presto. Devo tornare prima che si accorgano che non ci sono. Ho sentito che un segmento di una festa è stato ucciso. Mentre difendeva Windle da un drago. Ma sembra troppo bello per essere vero. Avanzi. Hai buona fortuna. Ora sei solo. Con chi stanno? Qui! Sei morto! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.